Il Comune di Pesaro e le organizzazioni sindacali hanno firmato questa mattina il protocollo d'intesa sulle linee di governo relative al bilancio di previsione 2023. Un documento con cui l'amministrazione si impegna a stanziare 150.000 euro per il fondo anticrisi destinato al disagio abitativo e a rafforzare il sistema degli ambiti territoriali e sociali per un'integrazione delle politiche sanitarie. Questi punti focali del documento presentato dall'assessore a rigore nobili e alla solidarietà Pandolfi, dei provvedimenti economici importanti anche perché previsti a poco tempo di distanza dalla straordinaria operazione da quasi mezzo milione di euro per il fondo Tari 2022. Questo protocollo rafforza il rapporto e la collaborazione che c'è con i sindacati. Questi 150.000 euro, anche se possono sembrare cifre non importantissime, invece è un segnale molto forte. Siamo già pronti a mettere altre risorse nel momento in cui avremo la disponibilità perché i servizi sociali ed educativi sono il fiore all'occhiello di questa amministrazione e quindi c'è massima attenzione a poter dare le giuste risposte alle richieste dei cittadini pesaresi. Tra gli obiettivi concordati figura anche un'integrazione delle politiche sanitarie per il quale le parti si impegnano ad agire nei confronti della Regione Marche. Tra le priorità condivise con i sindacati c'è anche la necessità di interventi specifici a sostegno dei nuclei familiari con un componente malato di Alzheimer o di altre tipologie di demenza. Quello messo in moto da comune e sindacati ribadisce la volontà di sviluppo e di ripartenza del territorio per il quale ci sarà un continuo monitoraggio dell'andamento degli investimenti inserito nel PNRR. Noi come amministrazione siamo sempre pronti a partecipare, ogni qualvolta si presenterà un'opportunità. Non a caso tante risorse e molti investimenti che abbiamo sul piano di previsione vengono proprio dal PNRR. Abbiamo fatto una buona progettazione che ci permette oggi di partecipare nel momento in cui ci sono dei bandi e quali ovviamente riteniamo essere in qualche modo utili e necessari per la nostra città. Chiudere questo protocollo a dicembre permette di poter riflettere sulle azioni che si possono mettere in campo concretamente già da gennaio. Programmare il futuro andando oltre noi stessi guardando alle nuove generazioni. Questo è quanto ribadito dai sindacati. Quello che non riesco a comprendere di quest'epoca, purtroppo è un mio limite, è che molto spesso le discussioni che noi le facciamo soltanto guardando a una prospettiva molto breve. Mentre in realtà la politica o comunque anche la capacità di programmare il futuro e soprattutto in questo caso quando si fanno anche questi protocolli dovrebbero sempre avere una visione che va oltre noi stessi, che guarda le nuove generazioni. Se guardate anche il contenuto o comunque gli obiettivi di Next Generation EU che praticamente non sono altro che le risorse economiche stanziate per il PNRR, guardate che si guarda a quella dimensione lì.